La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Il premio è eccellenza dell'anno, innovazione, leadership, tecnologie sostenibili. Il premio va a Industrie Denora. Per rappresentare un'eccellenza italiana da quasi 100 anni, per la professionalità, l'ampia preparazione e l'impegno nell'investire sempre nell'innovazione, nelle nuove tecnologie e nella ricerca, Industrie Denora. Buonasera. Eccoli, buonasera. E complimenti. Potete togliere le mascherine se gradite per la foto. Sì, sì, via le mascherine per la foto. A favore dei fotografi. Eccellenza dell'anno, innovazione, leadership, tecnologie sostenibili. Complimenti e buona serata. Siamo in compagnia del dottor Paolo Dellacà, Chief Executive Officer di Denora. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Ecco, questa sera la vostra realtà ha ottenuto il riconoscimento nel settore delle tecnologie sostenibili. Le chiedo quindi un commento a questa vittoria. Sì, Denora compie 100 anni fra un anno, anno prossimo. Quindi in un secolo di storia, quasi un secolo di storia, ha continuato a fornire tecnologie rivoluzionari ai mercati che ha servito. Per noi l'innovazione va ben oltre la ricerca e sviluppo, ci guida quotidianamente in tutto quello che facciamo, dai processi organizzativi all'eccellenza operativa di fabbrica, ovviamente anche alla ricerca e sviluppo. Questa leadership che abbiamo conquistato negli anni a livello mondiale, in vari settori che serviamo, ha continuato a progredire e ci ha permesso di entrare in altri settori, i quali chiaramente si sposano perfettamente anche con i concetti di sostenibilità. Quindi sono tecnologie che si sposano perfettamente con i trend che si suppone sostengono l'evoluzione positiva del nostro pianeta nel futuro. Siamo ora in compagnia di Luca Buonerba, Chief Marketing and Business Development Officer. Buonasera, benvenuto anche a lei. Buonasera. Ecco, il vostro gruppo è da cent'anni leader indiscusso nel mondo degli elettrodi. Negli anni Sessanta in particolare avete inventato e brevettato un prodotto rivoluzionario, ovvero la tecnologia DSA. Le chiedo se ci può spiegare di cosa si tratta e come trova applicazione anche al giorno d'oggi. Assolutamente. La tecnologia DSA è stata inventata a fine degli anni Sessanta ed è stato veramente un breakthrough di tutta la chimica moderna, in quanto si parla di anodi metallici rivestiti di una vece catalitica a base di ossidi metalli nobili che sono andate a sostituire la grafite e il piombo nei processi elettrochimici. Questo ha portato sicuramente un vantaggio dal punto di vista del consumo energetico e quindi un grande vantaggio economico per tutti gli utilizzatori e anche un vantaggio dal punto di vista ambientale perché si sono tolti dal processo elementi nocivi come il piombo e la grafite che andavano a peggiorare la qualità del prodotto e a creare problemi anche di smaltimento dei fanghi. Questo chiaramente è stato un breakthrough che poi negli anni è riuscito a prendere piede non solo nel clorosoda, la produzione di cloro per tutto il mondo delle plastiche e della disinfezione delle acque, ma anche nel campo delle galvaniche e oggi è alla base della tecnologia dell'elettrosi dell'acqua che serve per produrre idrogeno verde da fonti rinnovabili e grazie appunto a questi DSA e alla loro performance si riesce ad avere una prestazione degli elettroizzatori molto migliore e comparabile con il costo dell'idrogeno grigio fatto dal reforme del metano. Ecco, dottore Dellacà, lei chiede invece quali sono i vostri progetti futuri in un'ottica di sostenibilità tecnologica. Abbiamo moltissimi progetti in ottica di sostenibilità tecnologica, ne vorrei citare un paio, sicuramente siamo nel mondo della transizione energetica, nella produzione nello specifico di idrogeno verde da fonti rinnovabili attraverso l'elettrosi dell'acqua e una delle nostre grandi forze tecnologiche, abbiamo già acquisito dei progetti molto importanti in giro per il mondo che ci danno grande confidenza di poter progredire in questo ambito, stiamo ovviamente aumentando la nostra capacità produttiva nelle nostre varie fabbriche in giro per il mondo, abbiamo in programma di costruire nuove fabbriche per aumentare ulteriormente la capacità di servire questa grande onda della transizione energetica, per citarne una, visto che siamo italiani, la famosa Gigafactory che stiamo programmando di fare in Italia, che dovrà produrre tecnologie tutte dedicate alla produzione di idrogeno verde e che sarà un centro di eccellenza mondiale per questo tipo di comparto. Abbiamo applicato all'IPCEI, quindi al programma della comunità europea e stiamo aspettando di muovere i prossimi passi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.